A VIVO SETE Nei nuovi prodotti per la colazione a marchio Coop C'è tutta l'energia positiva delle materie prime selezionate Per questo sono buoni dentro Come i pancake Coop con latte e uova freschi 100% italiani La Coop sei tu Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere Perché la condivisione e le persone di coscienza hanno un valore immenso Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta Perché insieme possiamo fare di più Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista Campagna di tesseramento FIOM CGL Unisciti a noi Campagna di tesseramento FIOM CGL In tutto il mondo, milioni di bambini come Fatima, Leolida e Monica stanno morendo di fame a causa di guerre, povertà e siccità. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per salvarli dalla malnutrizione. Con la tua donazione mensile puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo terapeutico e cure mediche salvavita. Nessun bambino dovrebbe morire di fame. Chiama ora Save the Children all'800 14 87 92 ed una 9 euro al mese. Grazie.